C'è, ecco, bene, buonasera, anzi, buon pomeriggio, io sono Giovanni Pietti e vi parlo di questo concerto, anzi, di questa sorta di lezione, un concerto che andate a sentire questo pomeriggio. Itinerari, cinque viaggi musicali, queste sono cinque composizioni, mi è stato invitato, e sono cinque composizioni dedicate ad alcune culture musicali del mondo, cioè è uno sguardo, uno sguardo di musicisti occidentali, un musicista occidentale particolare che sono io, ma anche di tutto il gruppo Open Trios, che sentirete che è una particolarità, è un gruppo abbastanza particolare, è uno sguardo di musicisti comunque occidentali, viviamo tutti a Roma, a altre culture musicali del mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.